Nel Movimento 5 Stelle scadono domani i termini per presentare le candidature nella corsa a Palazzo Chigi, ma sulle regole adottate per la selezione i malumori interni non si placano. Alessandro Gamberi. Candidato Premier e regionali siciliane, due partite che si intrecciano domani. A mezzogiorno scade il termine per candidarsi come leader del Movimento e a poco più di 12 ore la casella sfidanti di Di Maio segna ancora 1-0. A Palermo invece si attende la decisione del giudice sulla candidatura di Giancarlo Cancelleri. Dovesse essere confermata l'irregolarità della votazione online, occorrerà indirne una nuova, proprio nella settimana che porta alla Kermes di Rimini, dove verosimilmente verrà incoronato Di Maio, già messo nel mirino dalle altre forze politiche, come nuovo leader. Gli attacchi esterici dei partiti in questi giorni dimostrano la loro rabbia e preoccupazione nei confronti di un movimento capace di coinvolgere i cittadini. Senza chiedere niente in cambio e senza comprare voti. Ma non si spengono i malumori interni. Il nodo è il passaggio di testimone tra Grillo e il nuovo capo della forza politica. Molti attivisti online si interrogano sull'opportunità di una decisione così importante e presa senza coinvolgere gli iscritti. Proprio per questo Grillo è atteso a Roma per discutere con i parlamentari. Luigi Gallo, l'unico parlamentare ad aver messo per iscritto le proprie perplessità, oggi ribadisce, siamo abituati a scelte che partono dai meet-up e dalle votazioni in rete. Non mi sembra questo il caso. Intanto Roberto Fico, che secondo gli ortodossi sarebbe il naturale sfidante a Di Maio, continua a riflettere sulla possibilità di candidarsi. Si tira invece fuori dalla corsa Carlo Sibilia, con un lungo post su Facebook, fa un in bocca al lupo al futuro leader, che vale però anche come monito. Chiunque sarà scelto ha una strada ben tracciata, scrive, si chiama Programma.